Ehi, Spyro! Sapevi che con il doppio salto puoi planare più lontano? Se torni qui sano e salvo con un uovo di drago, ti aprirò la porta. Ehi, Spyro! Sapevi che con il doppio salto puoi planare più lontano? Allora parti con il doppio salto e la planata. Se torni sano e salvo con un uovo di drago, ti aprirò la porta. Per andare più lontano, usa il doppio salto e la planata. Plana su quelle rocce per trovare un uovo di drago. Ehi, ottimo lavoro, Spyro! Hai trovato l'uovo di drago. Tienilo al sicuro. Qualcuno potrebbe venirlo a cercare. Adesso permettimi di aprirti la porta. La porta che ho appena aperto, amico! Passa per la porta che ho appena aperto. Ehi, Spyro! Che gioia rivederti! Vedi questa grotta alle mie spalle? Beh, pare proprio che non riuscirai a passarci. Non vorresti essere al posto mio? Vuoi che esplori la grotta, Spyro? Allora, vuoi che entri nella grotta e faccia l'eroe? Non puoi andare avanti se il ponte non è attivato. Credo che una zona della grotta conduca fuori e dall'altra parte del ponte. Allora, a quanto pare ti servono di nuovo le mie doti e la mia esperienza. Sparks! Eh, che ci fai qui? E dov'è Spyro? Ok, capisco. Certo. Oh no! Hanno preso Spyro! Dobbiamo salvarlo prima che sia troppo tardi! Calma, amico! Spyro è ancora vivo! Lo so, perché altrimenti saremo tornati al salvataggio precedente! Ma guarda! Oh! Ehi, Bentley! Sono solo di passaggio! Vado in missione a salvare Spyro! L'hanno catturato! Allora, come va? Oh, bene! Allora, ok! Ok, sicuro di star bene, Bentley? Posso entrare con l'arco e le frecce e sbarazzarmi di loro? Ah, una gemma di luce! Ok, benissimo! Oh, no, 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 mi piace! Adarò a Spyro! Oh, l'ha fatto, vero? Spyro, tutto bene? Resisti, amico mio! Ehi, vuoi che venga con te? Va bene, ci vediamo allora! Stammi bene, ok? Allora, Spyro, sai che solo io, con le mie sublimi doti feline, sono in grado di attraversare il ghiacciaio! Forse dovrei proseguire io? Vuoi che Hunter torni dentro, vero?